E ora vogliamo parlare di una figura, di un sacerdote che non è tanto conosciuto, ma che merita di essere più conosciuto, magari è più conosciuto all'estero, in particolare in Polonia e un po' meno nella sua e nostra Italia. Ed è un sacerdote che ha avuto un profondo legame, soprattutto spirituale, con San Pio da Pietrelcina. Parleremo di Don Dolindo Ruotolo. È stato appena pubblicato un libro, ecco ve lo mostro, che ripercorre, grazie alle testimonianze della sua nipote Grazia, le vicende terrene di Don Dolindo. E abbiamo con noi in studio l'autore di questo libro, o meglio il coautore, visto che lo firma insieme alla nipote Grazia, Luciano Regolo, che è condirettore di Famiglia Cristiana. Molti lo conoscono come il biografo di Natuzza Evolo, ma questo libro e tanti altri libri che è scritto dimostrano che tu sei ormai il biografo dei Santi e non anche di chi magari ha compiuto un cammino un po' meno legato all'incontro col sopranaturale. O comunque magari ci saranno arrivati come tanti altri alla fine della loro esistenza. Benvenuto fra noi, anzi bentornato fra noi e Luciano. E anzitutto mettiamo in luce il legame che c'era con San Pio. Magari qualcuno che conosce San Pio sa che spesso lui ai napoletani consigliava che venite a fare da me, andate da Don Dolindo perché lì troverete un santo sacerdote. Ma c'è dell'altro. Sì, è un legame diciamo che è nato addirittura quando erano giovani, perché durante il periodo cosiddetto napoletano di Valle Pio nel 1918 eccetera, si intersecarono nella stessa chiesa che era quella della Madonna della Pazienza e praticamente era vicino alla Cesare, alla caserma dove era la sanità militare. Padre Pio ha fatto quella breve parentesi. Esattamente. Proprio lì Don Dolindo teneva degli incontri di catechismo. Quindi uno dei figli spirituali di Padre Pio, che era un avvocato napoletano turino, si chiamava, che organizzava moltissimi pullman di pellegrini eccetera, è anche molto devoto di Don Dolindo e quindi ho fatto parecchio da tre due, anche se ci sono cartoline, opuscoli, come sai perché mi ha aiutato anche nelle mie ricerche, però appunto diciamo di questo ti ringrazio. Però appunto abbiamo intanto contezza del fatto che Don Dolindo mandava a San Pio sia opuscoli che lui scriveva, perché era un grande scrittore di cose sacre e di meditazioni che spaziamo dalle preghiere fino a quando poi realizza il suo capolavoro, che sono i commenti alle sacre scritture, sono 33 volumi. La nipote grazia dice una frase che mi piace ripetere in questa sede, dove dice che ha spesso pensato, li consiglia due giganti della carità, ha spesso pensato che come San Pio edificò, costruì, fece costruire la casa sollievo della sofferenza per le anime, per i sofferenti anche nel corpo, così lui fece questo ospedale tra virgolette spirituale che era il commento delle sacre scritture, per curare le anime. Quindi c'era questo grande dialogo a distanza e fin quando poi si vedono veramente fisicamente nel 1953, accompagnati tra l'altro da un vescovo che oggi è molto conosciuto, perché era il vescovo di campagna, oggi noto Palatucci per aver salvato tantissimi ebrei in un periodo oscuro della nostra storia. Vanno insieme proprio anche un po' in modo rocambolesco, perché Don Dolindio non voleva assolutamente saltare le sue, doveva predicare alle ore 18, quindi doveva andare la mattina. Quindi per poter partire all'alba dormire in un convento, diciamo, dove partiva l'autista del vescovo, che era un frate, e quindi a un certo punto riescono ad arrivare all'alba. Padre Pio è già a conoscenza del fatto di qualche ora si sono alzati, qualunque cosa. Allora, nell'attesa, loro vanno sia a vedere, diciamo, del Santore San Michele, eccetera, però poi cosa succede? Che lo accompagna il refettorio per prendere Tarallucci, cose che aveva comunque benedetto San Pio per gli ammalati, perché Don Dolindio svolgeva molto apostolato nel... e lui dice, guaiolo, lo sai che io non lo so fare la centra di San Pio, però comunque gli dice, hai visto che ti avevo lasciato tutte le cose, insomma, era a conoscenza anche di questo, ma soprattutto ciò che animava Don Dolindio era sapere, Don Dolindio aveva ricevuto degli aspri provvedimenti, tra l'altro ho trovato una sua annotazione quando nel 1923 viene punito con misure ingiuste, diciamo, restrittive di San Pio, lui anche sta cominciando ad essere sottoposto al giudizio del Sant'Uffizio anche Don Dolindio e lui scrive, ho letto che anche padre Pio ha subito questa cosa, scrive nel 1923, no, ha iniziato a seguire, prego per lui scrive. Però Don Dolindio fu ancora diciamo un calvario che si continua, perché una prima volta, dopo un anno e mezzo, viene reintegrato dalla sospensione a Divinis, poi invece per 16 anni viene privato proprio per ciò che aveva scritto e per delle testimonianze di una figlia spirituale, un cliché molto simile che chiama San Pio conosce, una figlia spirituale gelosa del rapporto che lui aveva diciamo con alcune figlie, con altre figlie spirituali, diede delle false testimonianze, quindi si instaurò un processo, diciamo, come avveniva allora col Sant'Uffizio e quindi fu privato della possibilità di dare anche i sacramenti. Allora lui cosa c'era? Andava allo stesso a Messa tutti i giorni, essendo anche oggetto di mormorazione, no, perché si presentava, però pur per questo testimoniando l'amore per l'Eucaristia e per la Chiesa, non c'è stato mai un momento in cui si è arrivato esattamente come fa San Pio. Quindi lui cosa fa? Quando va lì nel 1953, ormai lui è già stato reintegrato, eccetera, ha il desiderio di sapere se questa fase, diciamo, della sua vita aveva gettato ombra, se quello che lui aveva scritto effettivamente era sbagliato da un punto di vista. Allora San Pio lo guarda e gli dice il paradiso è, era, è e sarà sempre con te. Allora lui si commuoce, questo incontro commovente è descritto perché si rispondono l'uno con l'altro e soprattutto alludono. C'era Emma Montella che era una figlia spirituale di Don Donito che era anche in contatto con il padre Pio e quindi praticamente si fanno riferimento esplicito a delle visite spirituali che aveva compiuto San Pio con questa figlia spirituale di Don Donito e viceversa. Quindi c'è un intreccio incredibile e tra i vari intrecci forse uno dei più che mi ha colpito riguardo a quello che stavi dicendo anche prima, cioè il fatto che spesso San Pio dicesse cosa venite a fare, c'è a Napoli, c'era questo conte polacco che era caduto in disgrazia anche economica eccetera, il quale lavorava per Monsignor Inizza ed era venuto qui. Allora ha detto ma cosa affronti questo viaggio disaggevole da Roma eccetera, dice vai direttamente a Napoli che è più vicino e vai da Don Dolindo. Allora si crea un legame tra questi due, allora Don Dolindo aveva tra i vari suoi doni carismi quello di ricevere delle locuzioni interiore e lui le scriveva dietro delle immaginette generalmente tematiche anche quando non conosceva apparentemente il destinatario che andava. Quindi su una che raffigura la regina del cielo che è appunto la Madonna scrive Maria all'anima ed è indirizzato poi a questo conte, l'anima serve questo conte e dice arriverà un altro Giovanni che come Sobiechi riferendosi al Giovanni Polacco che liberò dalla schiavitù dei turchi, così arriverà questo nuovo Giovanni che spezzerà le catene e libererà dalla dittatura comunista. Lo scrive diciamo proprio chiaramente. Questo in che anno? E questo lo scrive in 1965. Quindi con 13 anni di anticipo rispetto alle elezioni di Giovanni Polacco II. E per questo Don Dolindo è così famoso in Polonia perché i polacchi hanno scoperto che aveva preconizzato la loro liberazione e colui che li avrebbe liberati. E per quegli intrecci curiosi della provvidenza, proprio questa immaginette rimane a Inizia che sappiamo essere stato diciamo poi colui che scelse Giovanni Paolo II proprio per andare a fare questa consacrazione al cuore immacolato proprio in Russia sotto mentite e spoglie con parole che lui stesso aveva scritto. È molto molto impressionante così come mi ha impressionato raccoglie la testimonianza di una figlia spirituale circa la piaga che aveva sulla spalla. E ho pensato che diciamo anche questo era un punto in comune con San Pio. Ho pensato anche al doppio filo che ancora una volta unisce San Giovanni Paolo II a questi grandi mistici contemporanei. Perché forse anche lui stesso, come è venuto fuori poi nel processo di beatificazione, aveva questo filo diretto con la Vergine Maria. Bene, allora Gesù, pensaci tu, questo è il titolo del libro scritto da Luciano Regolo per le edizioni Ares per conoscere questa straordinaria figura che ha molte affinità come abbiamo sentito con San Pio da Pietrelcina ma che soprattutto merita di essere conosciuta perché magari dalla vita si può passare agli scritti che come ha detto Padre Pio aprono la porta del paradiso. Ringraziamo Luciano Regolo per la sua disponibilità e noi continuiamo la nostra diretta. Perfetto.